Teatron, la nostra rassegna teatrale di Media Leader, questa settimana vi propone diversi appuntamenti nell'agro Nocerino. Partiamo da quello più importante, quello che si svolge già da domani con un'azione collettiva teatrale a cura di Armando Punzo e la sua Compagnia della Fortezza. Un guanto rosso, un libro, una valigia per raccontare probabilmente la vita e il teatro. Con Armando Punzo, 28 anni, di teatro impegnato nel carcere di Volterra. Sì, una compagnia teatrale, la Compagnia della Fortezza del carcere di Volterra, ormai arrivata quasi ai 30 anni, quindi insomma una compagnia storica. E con questa compagnia e con una parte del progetto di questa compagnia siamo qui a Pagani e sabato mattina avremo questa azione teatrale dedicata al Mercuzio. Mercuzio non vuole morire con gli studenti e con tutto il pubblico che verrà nel teatro Sant'Alfonso. E in quell'occasione sarà possibile vedere uno dei momenti veramente degli spettacoli storici della Compagnia della Fortezza. Quindi chiediamo a tutti quelli che ci vedono, che ci ascoltano, di partecipare, di portare con sé un libro, un guanto rosso e una valigia. Perché sarà un'azione collettiva dove il pubblico potrà partecipare direttamente. E poi la sera, sempre sabato, alle 21, siamo qui al Centro Sociale di Pagani dove presenteremo Mercuzio in un'altra versione, cioè a Mercuzio altre utopie. Quindi è una sorta di racconto storico, della storia, racconto spettacolo, uno spettacolo su quello che è la Compagnia della Fortezza insieme ad Aniello Arena che è uno degli attori storici che ha fatto il film con Reality, con Matteo Garrone, con Aniello Arena e con Andrea Salvadore che è musicista che risegue tutte le musiche dal vivo con noi ormai da anni.